L'ore questa cosa te la devo firmare, te la devo filmare troppo! Che cos'è questa? Guarda! Che cos'è questa? Guarda, guarda, che cos'è? Porca miseria, che cos'è questa qui? Sai dove sono, no? Poi tu guardi la data, tu guardi la data, Ted, di questo filmato e così almeno vedi dove sono e quando sono. Guarda, l'ore! Cacchio! Io lo sapevo, lo sapevo! Non la tocco perché se no la asciugo. Che cos'è questa? Wow! Ti vedi i puntini? Sai vero dove sono? Wow! Vai su nell'acqua, vai! Ora ti libero. Calma, calma, calma! Sono con una mano sola. Slamata! Ciao! Ciao!